Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Minecraft versione 1.0 Allora signori miei, dobbiamo prepararci, dobbiamo prepararci per andare nel nether Dobbiamo andare ad esplorare quella fortezza e dobbiamo andare a conquistare O quantomeno ci dobbiamo provare, Papa Maullo darà il suo supporto Allora signori miei, prima di tutto, quanta carne abbiamo? Pochissima carne, pochissime frecce, abbiamo un po' di luminite Allora facciamo una cosa, facciamo un attimino le scorte, ovvero facciamo tante frecce L'armatura come è combinata, l'armatura è buona, il ferro ce l'abbiamo Dobbiamo fare un altro piccolo di ferro per sì e per no Allora facciamo così, mi organizzo con il cibo, il frecce e un baradano di varie cose E ci vediamo qui nuovamente pronti per partire in spedizione raga Ok ragazzoli, siamo pronti, abbiamo sistemato un attimino l'inventario No, la porta mi si deve aprire però Abbiamo sistemato un attimino l'inventario C'ho una botta di frecce, c'ho un po' di cibo che dovrebbe bastarmi C'ho delle stringhe e nell'eventualità mi si rompe l'arco C'ho del ferro, ho fatto un piccolo nuovo E una spada a mezza andata Ma comunque abbiamo sia il ferro che il legno Per poter sostituire tutto ciò che ci si dovrebbe rompere durante la spedizione Andiamo, no 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 no, fermo Devi semplicemente andare nel nether, a posto Andiamo raga, si parte per questa avventura Ok, arrivati Dove erano le mie dolce? Mi sono persa le dolce di qua Ok, seguiamo la strada raga, seguiamo la strada E andiamo alla conquista del nether signori miei Andiamo alla conquista del nether, della fortezza Dobbiamo andare alla conquista della fortezza Allora, io però per sé per no metterei l'arco qui E poi traslerei tutto di uno Perché l'arco ce lo dobbiamo avere pronto, subito, carico in mano signori miei Allora, l'alluminite la prendiamo poi Non è questo il nostro obiettivo odierno signori miei Non è questo il nostro obiettivo odierno Raggiungiamo la fortezza raga Raggiungiamo la fortezza che sta di qua Allora, sono un attimino agitato signori miei Perché le blaze ci fanno male, ma male, ma male Pesante signori miei E là c'è pure un ghast, ottimo Ottimo No, c'è anche un magma block, bellissimo C'è un magma block nella versione 1.0? Davvero, non lo sapevo Ciao, per il magma Me la droppi la, la, la Mi ha droppato un tubo Magma fasullo Doveva essere la versione cinese del magma signori miei Versione cinese E io mi sono persa la fortezza, però no È al di là la fortezza, ok Allora, scendiamo di qua raga Di qua ci sfracelliamo male le ginocchia Scendiamo gradualmente Gradualmente che le ginocchia ci tengo Questa mo' ce la pigliamo La self stand ce la pigliamo un'altra volta Il nostro ghast già sta rompendo le scatole Io c'ho poche frecce zio Se te rompi le scatole già subito così Bello 1.0 per noi parla al centro Scusatemi, andate, andate Dai, 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 dai Dimmi che mi ha droppato la lacrima Dimmi che mi ha droppato la lacrima Se mi ha droppato la lacrima volo, raga Se mi ha droppato la lacrima volo Allora, questi si rompono col piccone Io ogni volta ho problemi a ricordarmi come si rompono queste cose Dimmi che mi ha droppato la lacrima Solo questo? Solo due punti di esperienza? Questa povertà praticamente Un altro ghast Fa solo praticamente Un ghast Versione cinese Uuuuh Partiamo male, partiamo male, signori miei Partiamo male Partiamo malissimo Ai Ma proprio male, 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 male Mamma mia che partiamo male, signori miei Mamma Dove stanno andando queste blaze? Quando mai si allontanano così tanto le blaze? Raga, 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 raga Presa che m'ha troppato, non m'ha troppato nulla, mamma mia, proprio la povertà, signori miei, proprio Oh, siamo nella fortezza, raga, siamo nella fortezza, siamo nella fortezza, signori miei Occhi aperti, occhi aperti Dai, che te ciappo male, stati ferma, zia, che te ciappo male Prima che spari tu, sparo io, prima che spari tu, è morta Ci posso andare? Sì, 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 ma non le davano le blades dei tempi, le blades? Lo davano con molta, con molta meno, molta meno frequenza praticamente, va bene, dai Andiamo all'avventura, andiamo all'avventura Io però dovrei mettere delle torce, raga, mettiamo delle torce qui, ok Così sappiamo che noi siamo entrati di qua, più o meno Andiamo, 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 andiamo Sembra bella grossa, raga, sembra bella grossa, ma noi non abbiamo paura di nulla Non abbiamo paura di nulla, oddio Un attimino mi sto a cagare in mano Però non abbiamo paura di nulla, raga, non lo dobbiamo dimostrare Non lo dobbiamo dimostrare, blades, 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 blades Devi morire male, devi morire male Stai ferma, zia, stai ferma, stai ferma così Brava, zia Ma che bravo questa blades Due Dai, dai, no, dove stai andando? Dove stai andando, zia, hai preso l'ascensore E tre, bella cosa, ok Ricordiamoci che abbiamo pochissime Abbiamo pochissime, abbiamo poche frecce, raga Quindi non facciamo troppo di sboroni Allora, di qua non vedo nulla Nulla di interessante, va bene, metti però una torcia qui Non è interessante Torniamo verso la zona più popolosa Più popolosa Mettiamo due torce qui, raga Che ci deve indicare che noi veniamo da qui Mannaggia, lui, dove stai? Dove stai, zio? Dove stai? Dove stai, zio? Dove sei? Dove mi ha sparato? Che cosa? Me lo so immaginato Vabbè, lasciamo perdere Mi sto vomitando Allora, di qua o di qua? Ah, guarda dov'è Andiamo di qua, allora Lui è di là, noi andiamo di qua, signori miei Mamma mia Che persona antipatica Poco socievole Oh, una blaze rod Bella così Blaze rod presa E abbiamo fatto anche un ottimo achievement Achieve mamma Guardate il lago di lava Che era brutta la lava ai tempi, raga Che era brutta la lava Va bene Non perdiamo tempo, non perdiamo tempo Allora Di qua La fortezza continua Andiamo in esplorazione Andiamo in esplorazione Ciao pigman Ah, ai 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 Quella blaze rod era in un posto molto brutto Però forse è mortata sola Allora Di qua c'è la scala per salire C'è la scala per salire? Sì Mamma mia E blocchia non si riconoscevano proprio Cioè è complicatissimo Arco in mano Arco in mano Perché là c'è una blaze che però non c'è più Bello così La blaze non c'è più E' sparita la blaze E' di qui però non c'è sta un tubo Ce l'andiamo velocemente Via 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 Possiamo passare di qua No decisamente no Scendiamo 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 Allora Di là non potevamo andare Però possiamo provare ad andare di qua Io già so perfettamente che ci stiamo perdendo male Ci stiamo perdendo male No blocchi di costruzione a due passi Allora no blocchi di costruzione vicini Ok Adesso va bene Torce in mano Torce metti torce metti torce metti torce Di là non mi sembra che ci sia niente di che Noi veniamo da qua Facciamo così Stiamo sprecando un sacco di torce Lo so perfettamente raga Ma Dobbiamo Aspettate questa è una parte interessante Qua potremmo iniziare a trovare qualche cassa raga Qualche cassa Qualche cassa Andiamo di qua Ah bella scelta Cioè ho fatto una scelta Abbiamo trovato il vicolo cieco Chiuso 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 Torcia Di qua Chiuso Chiuso Tutto chiuso Nel balcone Tutto chiuso Perfetto Ok Ci rimane una sola strada Da fare questa di qua Dai così No ma dai Ma che paranoia Ma è tutto chiuso Uffa E che cosa è domenica Che ci sono tutte cose chiuse Ma porca miseria Noi siamo venuti di là Di qua c'è tutto chiuso Tutto chiuso Di qua continua Di qua continua Dai 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 No ma dai Ma è tutto chiuso Ma che tristezza questa fortezza Signori miei Ma che tristezza Tutto chiuso Tutto Niente Di nessuna ospitalità Proprio Di qua ci siamo andati Va bene Usciamo Troveremo qualcosa di interessante Raga Troveremo Dobbiamo trovare qualcosa di interessante Per forza No Qua è pure tutto chiuso Ma che paranoia Ma che paranoia Dai Ma neanche un Un Niente Una cassa Una cassettina Un bacio perugina Niente Un benvenuto Un coso d'accoglienza Niente Non ci hanno fatto troppo a nulla Raga Che persone poco socievoli In questa fortezza Avevamo caricato tanto La situazione Stiamo andando alla fortezza Guarda dove siamo venuti noi Noi veniamo da là Ok Va bene Non perdiamoci Non perdiamoci raga Non perdiamoci Continuiamo a girovagare raga Di là la fortezza continua Di là la fortezza continua Ah ah Dai dove c'era il gas Che si faceva il bagno Nella lava Di qua finisce Sì Di qua finisce Ma di là sopra C'è una blaze Molto brutta Di là ci sono tante blaze Via di qua raga Nascondiamoci da qualche parte Ok E mi mancavano le blaze Perché saltellano? Mamma mia Sera pieno di bug Guarda che Guarda che bastarda Che si è schivata Proprio quando Stavo a tirare la freccia Tanto te ciappo Non hai Non hai Non hai che fare Mamma mia Mi sono visto una palla di fuoco in faccia Tanto te ciappo A te E a tu sorella Messa la sopra A te E a tu sorella La sopra Con uno Con due E con tre Risposta esatta Signori miei Risposta esatta Allora noi dovremmo andare Vabbè ci possiamo andare di qua Se non sbaglio Ricordo male Di qua Cioè dobbiamo mangiare Però Fermi tutti Bella cosciotta di pollo Là sotto c'è una blazer Che dobbiamo fare fuori No se la riusciamo a ciappare da qua No Da qua Te ciappo No Da qua Stiamo sprecando le frecce Ma va bene Lo stesso Te ciappo Te ciappo uno Te ciappo due E te ciappo tre Signori miei Ok Allora Ok Allora Torcia a terra Di qua non ci sta nulla raga Di qua non ci sta nulla Di là mi sa che c'è lo spawn di blazer Può essere Sì 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 Accendi 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 Che se spawnano qua Siamo morti Accendi questo coso Accendi Accendi tutto Ok Allora uno spawn L'abbiamo trovato Uno spawn di blazer L'abbiamo trovato Quanto meno Dice abbiamo trovato qualcosa Ma io volevo trovare anche delle No 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 Zia Zia devi morire Ai ai Devi morire male Devi morire male Devi morire male Ok Calma 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 L'abbiamo eliminata L'abbiamo eliminata Ok No 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 Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ai No Vedi se prendo il pigman Vedi se prendo il pigman Guarda guarda Vedi se prendo il pigman Mannaggia No dimmi che non ho coppito il pigman No ok No Non c'è bisogno che mangiamo Allora Là l'abbiamo chiuso Là l'abbiamo chiuso Proviamo a salire Raga Proviamo a salire Dove sta la scaletta Di qua Certo che questi blocchi Si capisce poco e niente Raga Si capisce poco e niente Mi si sta rompendo la spada Ma non è un problema Abbiamo il ferro Per sostituirla Lì vedo tanto fuoco E di qui non vedo un tubo Di qua non vedo il tubo Lì anche quando Qua la fortezza continua Ma non va da nessuna parte Dove c'è il lago di lava Ok Va torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Aia Le ginocchia Mi sono fatto male Qua ci stanno i blades Ma di qua non ci siamo già andati No No Non ci siamo andati Di qua Cazzarola Che bella sorpresa Mamma mia Che pagate in faccia Che ho preso Devi morire zia Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Allora andare in combattimento Con una spada di ferro Non è la cosa Abituato a camminare Con il diamante Non è la cosa più bella del mondo Poi se ti si bug Anche il personaggio Che inizia a camminare da solo Smettila Non puoi fare quello che vuoi C'ho il personaggio posseduto C'ho il personaggio posseduto C'ho il personaggio posseduto Devi stare fermo Zio devi stare fermo Zio No 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 zio Ora devi scappare zio Ora devi scappare Giro di qua Giro di qua Allora là ci deve essere una festa Signori miei Là ci deve essere una festa Riuscirò a ottenere il controllo del pulsantino Sì Ok Abbiamo ottenuto il controllo del personaggio Qui c'era una festa raga Perché vedevo i pigmen che saltavano Contenti Non so perché Ok qui continua Qui continua Intanto non abbiamo trovato nemmeno una cassa Che cosa triste signori miei Che cosa triste Ma non c'erano ai tempi le casse Nelle fortezze signori miei Ai tempi non ci stavano le casse nelle fortezze Ma che cosa triste Lì qua c'è qualcosa all'interno Ma anche nella Le verrughe non ci stavano Le verrughe Questa è una torre Una torre Due torri Tre torri Ma non mi sembra che ci sia niente di particolare Cioè forse Di là dobbiamo andare Di là forse c'è qualcosa di particolare signori miei Allora mettimi della terra qui Che a me piace viaggiare in sicurezza Ok Terra Ok Scendiamo Mamma mia che amata L'ho vista brutta Ok Calma 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 C'è una sorta di scala Ok Ok Quindi forse dobbiamo provare a entrare Aspettate No forse Giù avevo visto l'entrata E infatti Qua sotto si entra C'è la scala di discesa Aspettate Non so se voi vedete raga Io un poco vedo Però vi metto delle torce Che non fanno tutta questa luce Dai 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 Sali 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 Siamo dentro dai Siamo dentro la forte Oh le verruche le abbiamo trovate Oh recupera recupera Piglia ste verruche Piglia ste verruche La sabbia la pigliamo La sabbia la pigliamo poi quando Quando ce ne torniamo a casa raga La sabbia la possiamo prendere quando torniamo a casa Queste le lasciamo Queste le lasciamo Di qua si sale ancora Allora saliamo prima di qua Che mi sa che non ci sta nulla di che Allora Dietro lì non c'è niente Dietro lì non c'è niente Apriamo 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 Di qua non c'è nulla Di qua non c'è nulla Ma che tristezza signori Ma continua la fortezza No di qua finisce Di qua finisce pure Io sento delle blades che crescono come funghi praticamente Però va bene Però va bene Allora andiamo di qua Che di qua possiamo salire Torce 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 Tanta luminite là davanti per noi Ma stiamo uscendo Siamo usciti raga Niente non c'è neanche una cassa raga Tristezza più totale Pidiamo questa luminite Che una volta ce la troviamo davanti Ce la portiamo a casa Ce la portiamo a casa Anche se fondamentalmente Non penso mi serva raga Perché non penso di fare Chissà quali costruzioni in questo mondo Divertimento è semplicemente Ok Vi comunico ufficialmente che mi sono perso Signori miei Ufficialmente ci siamo persi Signori miei Ci siamo decisamente persi Decisamente sì Allora Continuiamo 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 Sento le blaze Ce l'avevo proprio in faccia Ce le avevo proprio in faccia Le blaze Le blaze Devi morire male Devi morire male No Tre frecce spardate Tre frecce No 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 Ma tu sei pazza Vuoi partecipare al video Ma non ti faccio partecipare al video Devi morire male Aiai 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 Dove è finita l'altra L'altra è sparita Andiamo a chiudere Quello Quello spawn Cortesemente No 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 Aiai Via Via Veloce 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 Se ci muoio sono un pirla Se ci muoio sono un pirla Ok Calma 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 ragazzi Calma relax Calma relax Come direbbe un caro youtuber Calma relax Per ora non ci mancano Non ci mancano cosciotte raga Non ci mancano cosciotte Quindi Stiamo tranquilli Quella gioca a nascondino Ma te ciappiamo L'abbiamo presa Quest'altra non gioca a nascondino Ma la ciappiamo pure Libero me Libero tutti Sono più veloce io Sono più veloce io a sparare Ok Calma Non ci possono essere ancora blaze L'ho T'ho Toppato lo spawner Come fanno ad esserci blaze Mannaggia te Mannaggia te Devi morire Devi morire Non mi interessa Non mi interessa Devi morire Ok Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Spada in mano Quante frecce mi sono rimaste Ok dai Un po' di frecce ce l'abbiamo Allora Torcia qui Torcia qui Io sento ancora blaze Cioè impressionante Torcia qui Lungo corridoio E di qua si sale Allora ragazzoli Io ho visto un attimino La situazione che si è fatta Un po' complicata È molto lunga Perché qui La bellissima La nostra bellissima Fortezza continua Io mi chiudo qua dentro Signori miei Fermo Questo video In questo preciso stante E ci vediamo mercoledì O un altro giorno Non mi ricordo quando Per continuare Questa spedizione Nella Fortezza del nether Detto questo ragazzi Sono lì Grazie per aver guardato Questo video Grazie per i like Per i commenti Noi ci vediamo Sempre più tardi Qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao